Acqua pubblica di nuovo in pericolo è il monito di alcune associazioni di consumatori che denunciano come AICA perde almeno 400 mila euro al mese. Dito puntato contro gli stessi comuni, di questo passo l'acqua tornerà nelle mani dei privati. E a proposito di acqua, di saggi in vista tra domani e venerdì per le utenze di sciacca servite dall'acqua dei pozzi carboi per una interruzione elettrica programmata da e-distribuzione. L'erogazione riprenderà dopo il ripristino energetico. Covid in calo, la curva dei contagi, si allentano le misure restrittive, tra 48 ore stop all'uso obbligatorio delle mascherine all'aperto. Il 31 marzo il Governo nazionale revocherà lo stato di emergenza. Investimenti sanitari con i fondi del PNRR, Rino Marinello invita la regione ad una distribuzione equa di case e ospedali di comunità e centrali operative territoriali. In ogni caso per il parlamentare Saccenze siamo di fronte ad una rivoluzione. Noi per Menfi vuole spazzare via possibili malintesi e replica le dichiarazioni di ieri del sindaco Marilena Nauceri. Da parte nostra nessun sostegno alla sua amministrazione, dice il nostro telegiornale, la capogruppo Sansone. Ambiente. Nuovo appuntamento domani allo stazione con la campagna Adotta una spiaggia che Marevivo conduce insieme alle scuole. Obiettivo ripulire l'arenile e ridare dignità ad uno dei nuovi più belli della Sicilia. Ben trovati al nostro telegiornale. Al momento l'azienda speciale consortile Aica perde 400 mila euro al mese. Andando avanti così sarà inevitabile che l'acqua torni in mano ai privati. E questa è l'opinione di alcune associazioni di consumatori, tra cui Codacons, Consumer, Legambiente, Titano ed altre, che evidenziano la gramissima situazione in cui versa la società interamente pubblica, i cui soci peraltro non sono nemmeno tutti i comuni agrigentini, associazioni le quali evidenziano che mancherebbe la volontà politica di fare funzionare l'azienda. Abbiamo chiesto all'avvocato Giuseppe Di Miceli, responsabile dell'associazione Consumer, di chiarire i contorni di questa vicenda. Ascoltiamolo. Avvocato Di Miceli, pensate davvero che ci possa essere il pericolo a questo punto che Aica l'intera operazione possa saltare? Il vero pericolo è che non solo salta tutto il sistema idrico agrigentino, ma che salti con il sistema idrico agrigentino tutti i comuni. Perché attenzione, la consortile nasce perché è di fatto una forma societaria che vede un'obbligazione in solito di tutti i comuni. Pertanto nel momento in cui questa società ha dei debiti, i soci dovranno in zobido rinvinquare le casse della società appunto per sassone dei debiti. Bene, in questo caso ci troviamo davanti a un meccanismo dove, parafrasando, possiamo definirlo come il cane che si morde la coda. Perché se io ho una emorragia economica, mi passi il termine, di questa entità e cioè per come a meno da notizie che arrivano da Aica e cioè di una perdita di 400 mila Euro mese per ogni mese di gestione del servizio idrico, queste somme dovranno essere rinvinquate dai soci. Se facciamo due conti spiccioli e moltiplichiamo 400 mila Euro per 12 mesi, significa che in un anno io ho un'Aica, una società consortile, che mi perde, ha in perdita la bellissima somma di 5 milioni di Euro, che fatti due conti sarebbe già il 50% del famoso prestito che è stato concesso dalla Regione dei Comuni per avviare questo servizio. Quindi di fatto quelli che erano i fondi per l'avvio di questo servizio in un paio d'anni non saranno nemmeno necessari a pagare i debiti del servizio stesso. E come si può fare per invertire questa tendenza? Cosa si potrebbe fare? Cosa si dovrebbe fare? Esattamente, lì bisognerebbe intervenire dove vi sono le fuoriuscite economiche. Ci sono tre settori principali, uno è il personale, l'altro è l'acquisto dell'acqua all'ingrosso, tre trovare e individuare nuove sorgenti o comunque una unità di ambito che faccia ammortizzare quelli che sono i costi. Ammortizzando i costi automaticamente mi aumentano i ricavi. Bene, il personale in questo momento non possiamo andarlo a rimodulare, sarebbe da pazzi, proprio perché abbiamo una gestione su 33 comuni con un personale che ai tempi era previsto per 27 comuni, quindi una diminuzione con l'aumentare della gestione dei comuni non posso permettermela. Allora dovrei lavorare su quello che è l'acquisto dell'acqua all'ingrosso. Bene, come faccio a diminuire l'acquisto dell'acqua all'ingrosso? Aumentando la dotazione idrica delle sorgenti che sono presenti nel mio territorio. E come faccio se ho concesso la salvaguardia, ad esempio dell'articolo 147, a 8 comuni di cui almeno 3-4 ne detengono le sorgenti? Bene, aumentando la dotazione, il prelievo idrico da questi comuni, quantomeno. Bene, queste sono scelte che possano sembrare semplici, ma capite bene che proprio per la qualità e la quantità della scelta è lì che si perde l'acqua, scusateci il parafrasare, ma di fatto ci troviamo davanti a un cane che in questo momento corre, 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 ma non va altro che mordersi la coda. Le chiedo un'ultima cosa, Avvocato, perché voi paventate il pericolo che il privato, possiamo dire una metafora, uscito dalla porta possa in qualche maniera rientrare dalla finestra? Perché diventerà la scelta inevitabile. Nel momento in cui a me mi fallisce il pubblico e ho la consapevolezza che il pubblico non è idoneo a gestire questo servizio, automaticamente la scialutta di salvataggio sarebbe di nuovo il privato. Quel privato di cui ci siamo liberati giusto l'altro ieri e di cui già ne conosciamo gli effetti. A proposito di acqua, nessuna erogazione idrica domani e venerdì 11 febbraio nelle zone di Sciacca servite dai pozzi Carboi. A comunicarlo sono gli uffici di AICA che annunciano che domani dalle 9 fino al pomeriggio è distribuzione a programmato l'interruzione della fornitura elettrica agli impianti di contrada Carboi del comune di Sciacca. Ciò provocherà lo spegnimento della centrale di sollevamento e tale inconveniente potrebbe di conseguenza non consentire il regolare svolgimento delle turnazioni idriche previste nei giorni 10 e 11 febbraio. Una volta ripristinata la regolare fornitura elettrica da parte di E-distribuzione, l'approvvigionamento idrico dei serbatoi comunali tornerà a regolare e di conseguenza anche la distribuzione idrica. Veniamo al Covid, curva dei contagi in discesa, si va verso un allentamento anche delle misure restrittive. Venerdì 11 febbraio stop all'obbligo delle mascherine all'aperto che restano invece obbligatorie negli ambienti al chiuso. Sempre a partire da quella data, riapriranno le discoteche e sale da ballo. Aumenta da marzo inoltre la capienza negli stadi fino ad arrivare al 100% e il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza. L'unica incognita resta quella del Green Pass. Vediamo il servizio. A partire da venerdì prossimo 11 febbraio cesserà su tutto il territorio nazionale, a prescindere dai colori delle regioni, l'obbligo delle mascherine all'aperto, ma sarà obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramenti. Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Fino al 31 marzo, si legge nel provvedimento, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all'aperto è fatto obbligo di averli sempre con sé e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. L'ordinanza precisa che non hanno l'obbligo di indossare le mascherine i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di tali dispositivi e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Sono fatti salvi in ogni caso i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. L'ordinanza produce effetti a partire dall'11 febbraio e fino al 31 marzo. Lo stesso giorno, venerdì 11 febbraio, riaprono inoltre discoteche e sale da ballo con capienza al 50% al chiuso e al 75% all'aperto. L'11 febbraio in ogni caso non è l'unica data che segna l'avvio di alcune novità. Dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno mostrare il super green pass per accedere ai luoghi di lavoro, pena la sospensione dello stipendio e una multa da 600 a 1.500 euro. A partire dal 1 marzo o comunque nei primi giorni del prossimo mese si dovrebbe ridurre da 7 a 5 giorni la quarantena per i positivi asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose di vaccino. Da marzo inoltre non si sa ancora di preciso quando dovrebbe essere riportata al 100% la capienza negli stadi e al 75% nei palazzetti. C'è anche un'ipotesi più prudente che parla di un ritorno al regime autunnale quello del 75% e del 60%. In realtà sarà proprio questo il punto di partenza. Si tornerà dal 1 marzo ai livelli dell'autunno ma sarà fissata anche una data a distanza molto ravvicinata si parla di due settimane per raggiungere il 100%. C'è poi una data chiave ed è quella del 31 marzo quando finirà lo stato di emergenza in vigore da oltre due anni prorogato più volte e che non sarà rinnovato. Da quel giorno per fare smart working si torna agli accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente. Il comitato tecnico-scientifico dovrebbe passare in secondo piano così come la struttura commissariale che non sarà smantellata ma avrà un ruolo sempre più defilato. Si torna insomma alla gestione ordinaria. Il 31 marzo scade anche l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso se i nuovi contagi continueranno a mantenersi in calo. Il 15 giugno finisce l'obbligo di vaccino per gli over 50. non è ancora chiaro se la misura sarà prorogata. In ogni caso il mese di giugno potrebbe segnare l'addio anche al Green Pass per molte attività dai negozi alle banche alle poste mentre la fine dello stato di emergenza in primavera in ogni caso non comporterà automaticamente la fine della certificazione verde. Un cronoprogramma più chiaro sul futuro del Green Pass si avrà solo tra qualche mese. Sanità La distribuzione sul territorio degli investimenti sanitari con i fondi del PNRR avvenga in maniera equa. Questo l'invito del senatore pentastellato Rino Marinello nell'ambito del dibattito degli ultimi giorni sul piano da 800 milioni preparato dall'assessore Razza che il sindaco di Sciacca Francesca Valenti per la parte ricadente sulla provincia ha definito agrigento centrico. Il punto in questo servizio è fondamentale che le strutture vengano distribuite sul territorio con la massima attenzione a seconda della densità rispetto alla popolazione in relazione alle caratteristiche orografiche. Così oggi il senatore pentastellato Rino Marinello dice la sua sul piano per la realizzazione di strutture sanitarie case ospedali di comunità centrali operative territoriali e potenziamento della telemedicina. I finanziamenti necessari verranno attinti dal PNRR il tema è stato al centro del dibattito nei giorni scorsi dopo le polemiche sul piano da 800 milioni di euro annunciato per la Sicilia dall'assessore Ruggero Razza per una vicenda che lo ha costretto a fornire chiarimenti sostanziali alla commissione salute dell'Arse presiedute da Margherita Larocca Rubolo. Oggi Rino Marinello esalta il piano di interventi definendo il tutto una straordinaria possibilità per l'Italia in tutti i settori nella sanità in particolar modo con una serie di grandi interventi che andranno a cambiare l'assistenza sanitaria che le regioni avranno il ruolo più importante e sarà necessario da parte delle amministrazioni regionali una scelta attenta e responsabile. Noi qui al governo abbiamo lavorato perché ci fosse questa rivoluzione a livello del servizio sanitario nazionale ed è fondamentale che ora la regione a cui viene demandato la realizzazione di tutto quello che io ho pubblicato nel mio post perché ci sia una equa e adeguata diciamo distribuzione di quelle che sono le nuove strutture naturalmente tutto serve per alleggerire quello che è il lavoro dell'ospedale. Evidentemente non sono sfuggite al parlamentare Saccenza le preoccupazioni di qualche sindaco a partire da Francesca Valenti che si è lamentata per la decisione di destinare a Sciacca appena una casa di comunità accusando il governo regionale di continuare a considerare la sanità sul nostro territorio ancora agrigentocentrica. Io sono sempre disponibile per eventuale un confronto con gli organi preposti e questa sarà una rivoluzione del sistema e del servizio sanitario nazionale. Un piano da 16 case della comunità nella fattispecie da Grigento Aragona Bivona Canicattì Casteltermini Cattolica Favara Licata Men Finaro Palma di Montechiaro Porta Empedocle Racalmuto Ravanusa Ribera e Sciacca per l'appunto. Tre invece gli ospedali di comunità ancora Grigento ma anche Bivona e Santa Margherita quattro infine le centrali operative territoriali ancora una volta Grigento Canicattì Licata e Ribera. Della distribuzione di queste risorse si è lamentato anche il deputato regionale Michele Catanzaro Al momento siamo fermi all'impegno di Ruggero Razza di rivedere il piano nel quadro sostanziale in ogni caso secondo il senatore Marinello bisogna considerare fondamentale precisare che all'esecutivo il Parlamento ha chiesto di imprimere una svolta nella direzione di potenziare la medicina territoriale da lui definita quella più vicina ai reali bisogni della comunità Le case di comunità in tutto saranno in Italia 1350 luoghi visibili facilmente raggiungibili distribuiti capillarmente sul territorio case di comunità che saranno caratterizzate multidisciplinarietà e multiprofessionalità con servizi diagnostici primari e punti prelievi screening e vaccinazioni ospedali di comunità poi che saranno strutture residenziali in grado di erogare assistenza sanitaria di breve durata riservati a quei pazienti che pur non presentando patologie acute ad elevata necessità di assistenza medica non possono tuttavia essere assistite adeguatamente a domicilio per motivi sociosanitari Le centrali operative territoriali infine rappresenteranno strutture che prenderanno in carico le segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrittuale da parte di vari operatori per l'accesso guidato nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta ospedaliera all'assistenza domiciliare integrata semi residenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura diversi lo sviluppo della telemedicina e dell'assistenza remota è poi un punto su cui si guarda con grande attenzione Marino Marinello ribadisce infine la sua battaglia per l'istituzione della figura dell'infermiere di famiglia per il cui disegno di legge è il primo firmatario con l'obiettivo di rendere questa professione figura centrale della medicina territoriale vero perno tra il paziente e il medico di famiglia saranno ingenti i fondi che saranno impegnati nei prossimi anni e certamente a tutti i livelli conclude Marinello dovremo monitorare con attenzione le varie fasi come lei sa io ho lavorato e continuo sempre a lavorare e devo essere sincero un ruolo fondamentale per la medicina territoriale l'infermiere di famiglia di cui io sono il primo firmatario del DDL quindi auspico che l'assessore regionale alla sanità e anche gli addetti ai lavori che possono diciamo distribuire questi e ci occupiamo adesso della politica di Menfi da parte nostra nessun sostegno all'amministrazione noi ci siamo tirate fuori dalla maggioranza dichiarandoci indipendenti il sindaco non può dare nulla per scontato così il gruppo noi per Menfi replica alle dichiarazioni di ieri di Marilena Mauceri a proposito della mutata situazione politica in seno al Consiglio Comunale c'è il servizio da parte nostra non ci sarà alcun sostegno all'amministrazione noi siamo state chiare abbiamo preso le distanze dalla maggioranza di cui non facciamo più parte così oggi Manuela Sansone a nome del gruppo Noi per Menfi quello che nelle settimane scorse si è dichiarato indipendente replica alle dichiarazioni rilasciate ieri al nostro telegiornale dal sindaco Marilena Mauceri a proposito della nuova situazione politica in seno al Consiglio Comunale dopo che sei consiglieri hanno lasciato il gruppo di maggioranza siamo Menfi noi intendiamo smentire fermamente la dichiarazione del sindaco laddove afferma il nostro pieno sostegno all'amministrazione abbiamo già dichiarato e ribadiamo ancora una volta la nostra indipendenza e quindi l'uscita da questa maggioranza non esiste nessuna interlocuzione politica sulle scelte amministrative in atto prova ne è che nelle ultime settimane abbiamo ritenuto di sottoscrivere delle interrogazioni rispetto a chiarimenti relativi a progettualità in itinere di interesse comunque sempre generale abbiamo anche dichiarato che valuteremo il nostro voto in seno al Consiglio Comunale decidendo quali proposte di volta in volta saranno meritevoli del nostro senso e ribadiamo dunque la nostra estranetà a questa maggioranza consigliare insomma se il sindaco pensa di contare sul nostro sostegno si sbaglia puntualizza il gruppo di cui fanno parte Sandra Ardizzone Manuela Sansone ed Anna Alongi perché noi voteremo favorevolmente soltanto i punti che riteniamo di interesse per la comunità ed il bene comune noi lo abbiamo già dichiarato nella nostra comunicazione di indipendenza di volta in volta voteremo tutto ciò che riteniamo per il bene comune e nel confermare la propria estranetà alla maggioranza i tre consiglieri di Noi per Menfi tengono infine a fare una distinzione tra la loro posizione di indipendenza e la posizione invece dei tre consiglieri che due giorni fa hanno annunciato la costituzione del gruppo misto la distinzione secondo noi è netta perché noi appunto abbiamo fatto una dichiarazione di indipendenza gli altri tre consiglieri hanno costituito un gruppo misto ma mantenendosi comunque con la maggioranza aumento del costo dell'energia scatta la protesta e la mobilitazione anche dei comuni che potrebbero e che presto potrebbero non essere più in grado di garantire i servizi essenziali ai cittadini a lanciare l'allarme lanci Sicilia che ha promosso per domani una protesta simbolica con lo spegnimento delle luci dei palazzi comunali alle ore 20 rincari esagerati e non sostenibili una situazione inaccettabile dichiara il nostro telegiornale il sindaco di Sciacca Francesca Valenti gli eccessivi aumenti del costo dell'energia con importi nelle bollette quasi raddoppiati stanno mettendo in crisi non soltanto i cittadini ma rischiano di mettere in ginocchio anche i comuni che molto presto potrebbero non essere più in grado di assicurare i servizi essenziali ai cittadini a lanciare l'allarme è Lanci Sicilia che ha promosso per domani sera una protesta simbolica che consisterà nello spegnimento alle ore 20 delle luci dei palazzi municipali al fine di attirare l'attenzione di cittadini e di istituzioni su un'ulteriore e grave tegola finanziaria che colpirà presto i comuni una iniziativa alla quale aderirà anche il comune di Sciacca è una situazione insostenibile commenta il nostro telegiornale il sindaco Francesca Valenti stiamo parlando di un bene di prima necessità va trovata immediatamente una soluzione conclude il sindaco di Sciacca come abbiamo anticipato in una nota inviata nei giorni scorsi al presidente della regione nell'Omusumeci e agli assessori regionali alle attività produttive e alle autonomie locali Girolamo Turano e Marco Zambuto dichiara Leo Luca Orlando presidente di Anci Sicilia i rilevanti rincari dei costi delle energie elettriche e del gas stanno rappresentando una reale minaccia non solo per gli equilibri già precari degli enti locali ma anche per quelli delle società partecipate con particolare riferimento a quelle che gestiscono il servizio idrico integrato queste ultime infatti ove volessero operare un ribaltamento dei costi sugli utenti non potrebbero procedere con immediatezza dovendo intervenire su una tariffa sottoposta all'approvazione della Rera una situazione che sta avendo inoltre una pesante ricaduta anche sulla sostenibilità dei servizi offerti ai cittadini in particolare sugli impianti sportivi sia privati sia pubblici molti dei quali hanno bilanci già duramente colpiti dalle lunghe chiusure per il covid e che a causa degli aumenti dei costi di gestione rischiano la chiusura definitiva per questi motivi conclude il presidente dell'Anci Sicilia riteniamo importante avviare prima possibile un tavolo stato regione enti locali finalizzato a trovare soluzioni adeguate e condivise che garantiscano ai cittadini la continuità dei servizi essenziali super bonus appello ai parlamentari dall'ordine degli ingegneri di Agrigento nei prossimi giorni il Parlamento sarà chiamato a convertire il decreto legge varato il 21 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri che tra le altre cose modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica pregiudicando di fatto il rilancio delle edilizie e dell'economia di tutto il Paese per gli ingegneri è un tradimento non solo per i professionisti del settore ma soprattutto per i cittadini e le imprese la cessione del credito evidenziano è stato in grado di muovere l'economia reale come non accadeva da decenni sostengono inoltre che non si possono cambiare le regole a partita in corso gli ingegneri chiedono alla classe politica di rilanciare la cessione del credito del super bonus 110% convinti che i benefici sociali ed economici per la collettività dovuti alla proroga appunto del super bonus saranno superiori ai costi sostenuti dallo Stato al via il processo di appello scaturito dalle operazioni antimafia elicon ed assedio che avrebbero scompaginato un clan dedito ad intrecci criminosi tra mafia politica e massoneria deviata in provincia di Agrigento 10 imputati 8 dei quali in primo grado erano stati condannati a complessivi 80 anni di carcere definitiva invece la soluzione di Giuseppe Galanti che inizialmente era stato accusato di essere il cassiere dell'essodalizio mafioso c'è il servizio al via il processo d'appello scaturito dalle operazioni antimafia denominate alicon e assedio blizze che avrebbero acceso le luci dei riflettori degli inquirenti su presunti intrecci tra mafia politica e massoneria deviata in provincia di Agrigento in particolar modo nel territorio compreso tra Licata e Campobello di Licata difese e procura generale hanno chiesto quindi di riaprire l'istruttoria del processo in appello gli imputati sono dieci in primo grado otto erano stati condannati mentre altri due erano stati assolti nell'ambito della sentenza espressa dal Tribunale di Palermo lo scorso giugno come si ricorderà la pena più alta a vent'anni di reclusione era stata inflitta ad Angelo Occhipinti già condannato per mafia d'estorsione ritenuto il nuovo capo della famiglia di Licata dodici anni a Raimondo sempre vivo imprenditore edile condannato con l'accusa di essere il braccio destro del boss dodici anni anche a Giovanni Mugnos agricoltore ritenuto l'alter ego di Giovanni Lauria altro esponente di spicco di Cosa Nostra di Licata imputato in un altro stralcio del processo dieci anni e otto mesi a Giuseppe Puleri imprenditore ritenuto componente della famiglia mafiosa di Campobello di Licata dieci anni e otto mesi al farmacista Angelo Lauria nipote di Giovanni stessa pena per Lucio Lutri funzionario della regione siciliana accusato di concorso esterno in associazione mafiosa Lutri in particolare come si legge negli atti dell'inchiesta grazie alla rete relazionale a sua disposizione quale maestro venerabile della loggia massonica pensiero ed azione di Palermo avrebbe acquisito e veicolato agli appartenenti alla famiglia mafiosa informazioni riservate circa l'esistenza di attività di indagine al loro carico e sarebbe intervenuto per favori di varia natura dieci anni e otto mesi a Giacomo Casa pastore considerato uno dei membri del clan di Catese due anni e quattro mesi per l'elettrauto Marco Massaro accusato di favoreggiamento aggravato per aver rivelato a Mugnos dell'esistenza di microspie all'interno della sua auto tre gli imputati assolti in primo grado Vito Lauria massone e figlio del boss Giovanni Angelo Graci che secondo l'accusa avrebbe avuto spesso il compito di presidiare i luoghi dei summit e Giuseppe Galanti accusato di essere il cassiere del clan per Galanti la soluzione è diventata definitiva poiché il verdetto non è stato impugnato dalla procura per tutti gli altri parte il processo di appello sempre al tribunale di Palermo investimenti per il rilancio del patrimonio culturale della Sicilia questa è l'iniziativa messa in campo dalla regione siciliana per rilanciare e promuovere i beni culturali siciliani dopo i due anni di pandemia che per forza di cose hanno contratto il turismo si parte con una prima tranche da 50 milioni di euro che serviranno a potenziare l'offerta e migliorare le infrastrutture e la ricettività sentiamo un protocollo di intesa è stato stipulato tra regione siciliana IRFIS e credito sportivo obiettivo promuovere valorizzare e rilanciare il patrimonio culturale siciliano che a causa della pandemia per forza di cose ha subito una contrazione relativamente ai numeri delle presenze turistiche si inizia con un budget di 50 milioni di euro per mutui finalizzati ad investimenti di rilancio del patrimonio culturale dell'isola l'accordo tra regione IRFIS e credito sportivo rafforzerà l'impegno comune nei rispettivi ruoli per migliorare l'offerta di cultura in tutte le sue forme attraverso interventi dedicati alle infrastrutture culturali materiali ed immateriali della Sicilia grazie al fondo per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e ai relativi strumenti finanziari messi a disposizione dal ministero della cultura anche nella regione siciliana aumenteranno le opportunità di rendere i luoghi culturali più decorosi sicuri sostenibili e accessibili intervenendo pure sui contenuti e sulla loro digitalizzazione lo scopo è quello di favorire l'accesso al credito a tutti coloro che desiderano investire nella tutela e nella promozione dei beni storici culturali e artistici siciliani portando avanti la sinergia di intenti tra pubblico e privato si potrà lavorare più facilmente per esempio su tanti immobili e beni storici vincolati per il loro ripristino infrastrutturale e sui tesori presenti pure nelle piccole isole siciliane soddisfatti per l'iniziativa intrapresa il presidente della regione Nello Musumeci il presidente dell'IRFIS Giacomo Gargano e il presidente dell'istituto per il credito sportivo Andrea Abodi la convenzione con validità triannale prevede uno stanziamento di un primo plafondo di 50 milioni di euro da parte del credito sportivo per la concessione di finanziamenti finalizzati ad investimenti relativi alla tutela e alla valorizzazione di luoghi e immobili destinati ad attività culturali e di beni storici vincolati particolare importanza sarà riservata ai temi dell'efficienza energetica dell'abbattimento delle barriere architettoniche della messa a norma e in sicurezza degli edifici e dell'implementazione tecnologica delle infrastrutture e la concessione di un contributo in conto interessi del 2% a valere sul fondo per la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale nuovo appuntamento ambientale domani allo stazione protagonisti come sempre all'associazione Mare Vivo Sicile Onulus e questa volta gli studenti delle classi quinte della scuola primaria obiettivo pulire l'arenile dello stazione ridare dignità ad uno dei luoghi più belli di Sciacca e sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell'ambiente e del territorio sentiamo continua il progetto Adottiamo lo stazione portato avanti dall'istituto comprensivo Mariano Rossi e dall'associazione ambientalista Mare Vivo Onulus stavolta i protagonisti della pulizia e della giornata di sensibilizzazione saranno gli studenti delle classi quinte della scuola primaria che come fatto precedentemente dalle classi medie provvederanno alla pulizia della spiaggia del borgo dello stazione e zone attigue per poi proseguire con un'attività di educazione ambientale in un'aula en plein air costituita dagli stessi spazi del borgo l'iniziativa si arricchisce questa volta del laboratorio tenuto dagli educatori incaricati dalla società cooperativa green life per lo svolgimento delle campagne per la sensibilizzazione ed educazione ambientale e alimentare tale attività si sta svolgendo in favore degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado presenti nell'aria e degli operatori della pesca finalizzata a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e a maturare il rispetto e la tutela delle risorse naturali tale laboratorio è promosso dal flag GAC il sole dell'azzurro tra le salinunte sciacca e vigata durante la giornata saranno inoltre realizzate le riprese per la realizzazione di uno spot di sensibilizzazione contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti nell'ambiente uno degli obiettivi del progetto infatti è quello di cercare di porre rimedio alle problematiche ambientali che insistono nella zona e nell'ambiente in generale lo si farà attraverso campagne di sensibilizzazione cartellonistica e altri interventi resi possibili dal sostegno ottenuto dalla campagna adotta una spiaggia di mare vivo che annovera proprio la spiaggia dello stazione tra quelle adottabili l'attività si svolgerà domani mattina e vede il patrocino del comune di Sciacca della capitaneria di porto di Sciacca e la collaborazione del borgo dello stazione e del museo diffuso dei cinque sensi di Sciacca come si ricorderà appena due settimane fa i volontari di mare vivo avevano provveduto a pulire anche la spiaggia di timpi russi rimuovendo oltre 300 kg di rifiuti soprattutto plastiche e polistirolo operazione portata avanti in sinergia con altri sodalizi e con il comitato locale di timpi russi e veniamo adesso alla rubrica curata dalla Mondadori unendo le scoperte più recenti nell'ambito delle neuroscienze della psicologia e della fisica quantistica e gli insegnamenti delle culture più antiche in questo libro Italo Pentimalli ha elaborato un metodo che è in grado di farti riscoprire il tuo vero valore attraverso una tecnica che fa dialogare mente cuore e anima sfruttando e armonizzando i meccanismi profondi secondo cui funzionano il cervello le emozioni e la nostra parte energetica il risultato sono nove principi quantici nove passi di un percorso alla scoperta delle potenti risorse sopite dentro di te attraverso domande test ed esercizi pratici del metodo del cervello quantico tarati sulle tue esperienze personali scoprirai quali idee inconsapevoli convinzioni e programmi mentali influenzano la tua vita e ti bloccano impedendoti di essere quello che vorresti i nove principi quantici di Italo Pentimalli edito Mondadori termina qui questa edizione del nostro telegiornale grazie anche oggi per averci seguito appuntamento alle prossime buon proseguimento di giornata le strutture in maniera adeguata su tutto il territorio della mia regione siciliana